Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Mondo dei Cubi Allora ragazzi ho lavorato molto off camera quindi partiamo subito a questo presupposto Perché veramente ho lavorato molto molto Sì, lì vedete che c'è un albero della taiga gigante Perché? Perché là dietro questa montagna c'è un biomo della taiga senza neve Novità principale di questo video L'avete vista? Sì lo so, sono stato un po' scemo E l'ha scritta per i 500 iscritti ragazzi, grazie a tutti Adesso siamo a 530 già Però veramente mi fa veramente molto piacere Adesso vi starete domandando ma Ferre Ferre perché non è nel mondo in creativa Perché non hai fatto il video ringraziamento opposta Perché ho visto che il video ringraziamento opposta vi rompeva Però voi volete un mondo di cubi e quindi ho deciso che d'ora in poi vi premierò Ehm Dandovi più mondo di cubi Ecco qua era la famosa taiga dove ho trovato anche questa zona che ho intorciato subito Ho intorciato Dizionario alla Ferre vuol dire Mettere le torce Ok, e qua costruirò qualcosa Non so cosa però abbiamo lo spazio per costruire qualcosa Meglio averlo spazio vuoto che non averlo spazio pieno What? Non lo so Comunque Cercherò di fare sempre più video Ehm Sempre più video di mondo di cubi Quindi i video di aggiornamenti, i video di ringraziamento, i video per i contest Tutte queste cose verranno sostituite E verranno diciamo rimpiazzate si Da questa serie Ehm Quindi tutto quello che devo dire ve lo dirò mentre appunto farò qualcosa E tipo adesso ragazzi ho, me lo stavo lavorando principalmente a due cose Principalmente alla bonifica di una zona per la casa che adesso io vado a far vedere E secondo alla conclusione definitiva stavolta veramente la conclusione definitiva di questa farm Mettendoci le dovute librerie Qua ho farmato un po' di pelle praticando il mio amato sport di ribaltamento mucche E infatti vedrete che il cancello, cioè il recinto è già più vuoto del solito Ehm E niente ragazzi quindi adesso direi che appunto Mi metterò a craftare un pochettino di librerie Sperando di riuscire a finirle Nel frattempo invece vi parlerò appunto perché Cerco di integrare i video, aggiornamento eccetera eccetera Ai video normali Allora cominciamo a chiacchierare Tante belle cose a dirvi Cominciamo da una domanda che non avete fatto in molti Ovvero cosa penso del E' un mocchino quello là Che tenero che è questo mocchino Crescerai tra pochi secondi me lo sento Comunque Che cosa voglio dirvi ragazzi? Voglio dirvi che Ehm In questi giorni Non me lo è ieri Mi sono lamentato del Non è l'altro ieri scusate Mi sono lamentato di Youtube Di Google più Quello che appunto è Adesso non si sa cosa sia Sarà Youtube più o Ehm Google Tube Non lo so cosa sia Veramente però Ehm E' comunque questo sito Di nome confuso Che però Ehm Mi sono ricreduto Eh si E' brutto da dire E' brutto da dire Però mi sono ricreduto sul sero ragazzi Mi sono ricreduto su questo sito Qua nel frattempo metto cuoce altre patate Perché di patata non se ne ha mai abbastanza Oddio cosa ho detto Censurato Oddio Ehm Allora Adesso pensiamo piuttosto a Fare un po' di cana da zucchero Marevo un po' di fogli Con le fogli facciamo Oddio Ok facciamo un po' di libri Ok E vediamo di fare anche Un pochettino di Librerie Ok Ehm E dentro ragazzi appunto Cosa volevo dirvi Volevo dirvi Qua abbiamo già fatto tre librerie Fantastic Ok Tracchete E Tricetuc Perfetto Ehm Allora ragazzi Cosa volevo dirvi Volevo dirvi che Mi sono ricreduto perché Provandolo in questi giorni Ho notato che Ho notato che Ehm La campanellina in alto destra Che trovate nel vostro Canale YouTube E' una cosa utilissima Perché mi permette di vedere Chi di voi ha messo più uno A miei video Chi ha messo mi piace Anche chi ha condiviso Chi ha fatto quello Chi ha fatto l'altro Cioè Secondo me Hanno fatto un bel lavoro Perché adesso Ho una carta in più Tra virgolette Per vedere Chi di voi è il più attivo Vi ricordo che Io cerco sempre Di cercare di capire A qua avevo incantato Un piccone con distruttibilità E una spada con Anatema e contraccolpo Quindi adesso Non ho più niente Di incantare Tranne questa zappa Vai zappa Deludente la zappa Vero? Si Peccato Cara zappa Mi è deluso Allora pazienza ragazzi Lo farò poi off camera Anche l'arco Ne avevo uno Ah ecco Se facciamo Mi incantiamo un arco 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 Eccoti qua Scusate Abbiamo 500 archi Tanto vale Che cacchio Quanto lo ho qua dentro Oddio Allora Facciamo così Facciamo così Facciamo così Non mi serve ancora uno Facciamo così Facciamo un arco unico Perfetto Si nel frattempo qua Cominciamo a farmare scheletri Si penso che adesso Farò un piccolo stacco Per farmarli Sul serio Ok Il problema è incantare Quest'arco Vediamo un po' Mi mancano i livelli E ragazzi Faccio questo piccolo stacco Incanto un po' di roba Mi sistema un po' di cose E ci vediamo tra poco Ok ragazzi Eccoci Mi è uscito un arco Con potenza 2 E lo andrò a unire Con quello di indistruttibilità Però devo aspettare un attimino Che cadano abbastanza scheletri Nel frattempo Faccio i saluti di oggi Perché vi ricordo che Da questo video in poi Ricominciano pure i saluti Allora saluto Un paio di iscritti Saluto The Lord The Lord The Lord Nerone 99 Simone Piras Drago 0100 M Siri Masterplay Scritto col 3 Mi raccomando Che è attivissimo Lo saluto Attivissimo E anche Un vecchio Scritto da tantissimo tempo X Bastardone 8 Gabriele Di Palma Masterodino 149 Questo qui Veramente è attivissimo Ed è Attivissimo no Perché è sparito Per un periodo però È un iscritto che Stimo un casino Perché mi segue Da quando praticamente Mi sembra Dal 9 episodio Di un mondo di cubi Cioè proprio Della prima serie Primissime cose Ed è Alberomastor576 Che ringrazio Mi segue veramente Dalle epoche Dalle anni storici Proprio Comunque Poi ci abbiamo Oddio Che nome impossibile Liborir Nelpiuk Chiedo scusa Se ho sbagliato il nome Però Libomir Beh va bene Salvatore Frascona Ok Ho sbagliato un nome Adesso li sbaglio tutti Hira 9999 Ok Xluka GU Firefly The King Mati 56 Luigi Tommaso E Xwong Quindi io vi ringrazio tutti Ragazzi Siete veramente tantissimi Spero che Mi continuate A seguire E Niente qua Scheletri Ne abbiamo farmati abbastanza Spero Direi di no Vero No Che sfiga Uffa 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 E Ci rivediamo quando Ho sufficienti livelli Ok Vi saluto E ci vediamo tra poco Ok ragazzi Eccoci ho svuotato un po' l'inventario E adesso finalmente Indistruttibilità 2 Più potenza 2 Può Super arco Ok Super arco Allora adesso pensiamo A bonificare la zona Non prima di averla fatta vedere Ovviamente E Niente comunque ragazzi Quello che dicevo prima Era appunto di Google più E di Youtube Che secondo me possono Far qualcosa Possono Migliorare Detto questo ragazzi E Prima ho fatto un piccolo scherzo Ho Non ce l'ho neanche dimenticato L'ho fatto opposto Ve lo giuro E Non ho salutato Guardo Perché Le avevo scritto Nei commenti Che non l'avevi salutato Per fare uno scherzo Gardo Ti saluto E E niente Gardo Per chi non lo sa È un mio amico Ma porca puttana Ma perché qua Tutte Ok ragazzi Rieccoci Ho unito gli archi Adesso ho un'indistruttibilità 1 Più potenza 2 Cioè 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 Ragazzi Cioè Questa è la caverna Cioè Questa è la caverna Uh Quanto ferro Uh Quanta caverna Quanta caverna Sì Eh no Mi devo fermare Se no qua ci sto Gli anni Però il ferro lo piglio Il ferro lo piglio Ferro lo piglio Eccolo qui Anche se io teoricamente Ho anche tanti bei diamanti Già da prendere Eh Dovevo finire le librerie Per prendere i diamanti Ecco cosa che devo fare Però i diamanti possono aspettare Prima voglio la mia casa Ragazzi Per la casa Organizzo Una specie di mini contest Così Su due piedi Ovvero Mi spiego meglio Eh Io adesso La progetterò off camera No Se Entro domani Mi arrivano Degli screenshot Su Appunto Delle idee Di casa O poi anche se volete Mandarmi lo screenshot Della vostra casa Io li guarderò Il migliore Lo farò vedere E logicamente saluterò anche Ringrazierò anche L'utente che mi ha data Nei commenti Cioè nei commenti E nel video E E E niente appunto La casa migliore che mi inviate Ve la faccio vedere Praticamente tutti quanti E E Logicamente Fungerà anche da spunto per me Quindi Sbizzarritevi Se qualcuno di voi ha voglia Di perdere un po' di tempo Per costruire Una casa Che mi possa dare un'idea Logicamente non la farò uguale Alla vostra Lo dico già subito La farò simile Adesso sto usando la tecnica Del secchio d'acqua Impaxito Per Ripulire la zona E far vedere bene Quanto spazio in realtà Si ha qua Inoltre ho anche La mesa Qua che appunto vorrei farci Una bella finestra Che mi fa vedere E ammirare la mesa Poi ho anche Dove vai? Acqua Ho anche il deserto Cioè Mi piace Sto posto Poi adesso andrò Ad abbattere tutti gli alberi Quindi Diciamo che ci sarà Questa operazione Di bonifica Dell'area E Sì perché è necessaria A sto punto La bonifica dell'area Perché Come vedete C'è tanto spazio E voglio sfruttarlo al massimo Quindi La casa Non ha Ehi Qua c'è un buco Devo tapparlo Vero? Sì Però io non posso tapparlo Io non può Io non può Quindi devo cercare di Arrangiarmi Ammi le nude Ok no Della terra casa Lavorerò un po' Off camera Adesso farò un po' Di terraforming Anche quindi E E si Quindi ragazzi Questo è Un altro Stacco Perché Devo Finire di fare Sto lavoro E Appunto la casa Potrebbe richiedere Vari episodi di costruzione Anzi Richiederà Vari episodi di costruzione Perché Ve la farò vedere Nel dettaglio Voglio farla anche E Automatica Sì voglio farla Abbastanza automatica Nel senso Voglio già cominciare A mettere qualche impianto Qua e là Che logicamente Poi Metterò Cioè che poi Logicamente cambierò E altri Li metterò E Qua Anche potrei farci Tipo un porto Qualcosa oppure Potrei con della terra Allargarmi Sì penso che Mi allargerò Con dell'altra terra Comunque ragazzi Adesso Faccio questo piccolo Stacco E ci vediamo Tra pochissimo Ok ragazzi Rieccoci E Vi dico già La prima cosa Che farò Ovvero Ho appena finito Di bonificare La prima parte Dell'area Infatti come vedete Non c'è più erba L'erba Non Nessun motivo Di intralcio Adesso andrò A abbattere La foresta Beh prima Andrò a dormire Logicamente Andrò a abbattere La foresta A tappare Questi buchi Con della terra E E niente ragazzi Andrò a fare Un po' di lavoro Off camera Lì c'è già uno scheletro Che mi spara Sono tre zombie Che mi seguono C'è uno D'oro Sembra il cavaliere Dello zodiaco 2 Muori Ok ok È il momento Giusto per attaccarlo Oddio 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 Che cavolo Stofa c'è Quanta cacchio Di gente c'è Addio Scappo Aiuto Scusate Non lo farò Mai più Vado via Mamma mia Mi ha fatto Spaventare Sono matti Adesso c'è un creeper In faccia Comunque ragazzi E appunto Opero Questo piccolo stacco E ci vediamo tra pochissimo PS E Altre librerie Ok ragazzi Rieccoci Questo qua penso che sia l'ultimo stacco per oggi E Allora ragazzi Qua Come vedete E Ho Praticamente Fatto retrocedere la foresta La sto veramente Demolendo Prima di chiudere questo video Voglio parlarvi di una cosa Allora non sono solito fare questi tipi di sponsorizzazione Ma un marchio Il primo marchio che appunto Io abbia mai incrociato Mi ha chiesto Di fare appunto un patto con loro Allora Io Ho collaborato Sto parlando in questo periodo con GameProofed GameProofed è Diciamo Una Un marchio che Permette di affittare Server da gioco Quindi se volete fare delle serie Se volete Prendervi La vostra possibilità Su Youtube E cominciare subito Con una serie multiplayer Oppure qualcosa di figo Su un server E Io appunto Vi do Questa notizia Questa Specie di Offerta Che è Un server Di GameProofed appunto A 15 euro Con E anche il TS Tutto appunto Quello che Ci deve essere insieme Logicamente non è che Vi danno solo il server E tanti saluti Vi danno anche il TS Per parlare Vi danno anche Ehm Delle Delle slot limitate Il server è buono Comunque Se non avete capito qualcosa O se comunque Siete interessati Per qualsiasi cosa Contattate me E appunto Se riuscirò a fare Almeno due vendite Di questi server Riuscirò a diventare Collaboratore Di GameProofed E riuscirò a Ehm Come posso dire Ehm Chiudere E n'affare Con loro E poter Avere un server Da Ehm Utilizzare Con voi In una serie Vi ricordo che questo qua Non è una cosa Che sto facendo tanto Per fare pubblicità Ma è una cosa Se ragazzi A parte di scherzi Ehm Voglio Provarci So che Magari è un po' Presto Perché è un po' Come se fosse Quasi un'offerta Di partner Però Voglio provarci Non voglio fare Assolutamente Quello che È un money grabber Perché comunque Il server Non lo utilizzerò io Ma lo utilizzerò Per una serie Che farò con tutti Anzi Potrebbe anche essere Magari un server Dedicato per tutti quanti Quello che mi daranno Ehm Quindi ragazzi Fate voi Io appunto Ve l'ho detto Ehm Niente Io quindi vi saluto Per questo video è tutto Vi chiedo scusa Se sto parlando un po' Troppo piano Ma è sera Perché sto video L'ho finito di Registrare stasera Ehm E niente Comunque poi adesso Sto eliminando tutta l'erba Come un folle Ehm Cercherò comunque Di continuare Con questa deforestazione Ehm Senza pietà E Vedrò di continuare appunto Al meglio Quindi ragazzi Vi ricordo Se volete provare A darmi un'idea Per una casa Se volete dirmi Come volete Che io faccia la casa Pagina Facebook Screenshot Invio E così lo vedranno tutti E magari Chi lo sa Qualcuno magari Troverà un server Un 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 Uschiamo oddio Un screenshot Che vi piaccia E potrà Potrà mettere anche lui like Quindi più like avrà Più like a boss Avete capito Ragazzi scusate Se parlo così Ma sono veramente demolito Perché Nello stacco Ho anche dovuto fare Un paio di lavori E E Quindi sono Ben ben stanco Ragazzi Quindi come al solito Vi ringrazio Vi invito a lasciare un like Perché youtube è stronzo Vi invito a Iscrivervi al canale Se anche voi vi allenate Con il ribaltamento Delle mucche Hardcore E Niente ragazzi Quindi io vi saluto Vi ringrazio ancora una volta Clicco F3A Perché i mici anche non si caricano E sono un po' scemi E Quindi io vi ringrazio Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando Se volete essere ancora Ancora no Magari Perché Già Chi chiede di essere salutato Più di una volta Me lo ricordo Cioè Me li segna i nomi Quindi non fate i furbi Per favore Fate gli onesti E fatevi salutare una volta sola Non fatemi controllare Tutte le volte Per il resto ragazzi Vi faccio vedere anche la cassa Che ho preparato Con tutto il cibo Tutte le cose che appunto Ho diviso Guardate quanto legno Ho tirato via da quella foresta Quindi Io vi ringrazio Vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Una mucca Ribalta la mucca No Un'altra mucca che là sotto Aspettate Aspettate Ribalta la mucca E' importantissimo E' la finale Ribalta la mucca Sè Sè Ok Ho vinto Quindi ragazzi Io cerco di fare anche un paio di liberie Va così almeno Faccio qualcosa E Vi saluto Come una volta Vi ho già salutato 100 volte Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti